Vai Ducale! Ho l'idea Nico! Dì l'idea! Dì l'idea! Quando andiamo in piccola andiamo in piccola andiamo in piccola andiamo in piccola dai però vai io non ce la faccio arrivare alle 6 se andiamo via tardi 10, 12, 12 si possono fare i 2 12, 14, 16, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 26, 27 Voi Nicolai Nicolai Dai 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 Fuori Dino 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Sul telefono che figo adesso voglio vederlo